Nel 2023, nei primi cinque mesi del 2024, la Guardia di Finanza ha eseguito oltre 5.000 interventi ispettivi e 1.914 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. E' quanto emerso dal bilancio nel corso del 250esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza. Le attività ispettive hanno consentito di individuare 65 evasori totali e 315 lavoratori in nero e regolare. E' stato anche scoperto un caso di evasore fiscale internazionale riconducibile alla fittizia sede estere di imprese in realtà operanti in provincia di Foggia. Le persone denunciate per reati tributari sono 135, 3 delle quali arrestate. Sono state avanzate 31 proposte di cessazione della partita IVA e di cancellazione dalla banca dati. 107 interventi in materia di accisi hanno permesso di denunciare 42 responsabili per il reato di contrabando e sequestrare oltre 65.000 chili di prodotti energetici. 51 attività ispettive in materia di gioco illegale hanno permesso di scoprire 18 punti clandestini di raccolta scommesse e di denunciare 5 responsabili. L'attività della Guardia di Finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell'Unione Europea. Le direttive impartite mirano in via prioritaria presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 148 interventi orientati a verificare l'aspettanza di crediti d'imposta, di contributi e finanziamenti, oltre alla corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici per un valore controllato di oltre 79 milioni di euro, accertando i lecidi per oltre 2 milioni e mezzo di euro.